Channeling Collaboration Wave Ciao belli, ben ritrovati sul mio canale siamo tornati su Project Cars finalmente continuiamo la carriera che abbiamo cominciato adesso perché avevo perso tutti i sabotaggi chi mi segue lo sa cosa è successo quindi facciamo tutta la nuova carriera tutte le gare insieme andiamo a vedere subito cosa c'è adesso quindi abbiamo la gara di Superkart Championships e niente io faccio come al solito qualche giro di prove libere per i fatti miei facciamo un paio di giri di qualifiche insieme e poi la gara insieme quindi ci vediamo dopo ciao ok ragazzi allora ho fatto un po' di prove libere ora ci facciamo un paio di giri di qualifiche ho fatto un miglior tempo in prove libere vediamo di fare qualcosa sempre di meglio ovviamente e poi poi niente comunque la gara provoche carichi i Superkart c'è da divertirsi molto ok il primo giro non sarà veramente dei migliori perché abbiamo le gomme frede un po' di problemi di strizzata iniziale appena le gomme si scaldano un po' sono troppe è proprio bastare un giro per scaldarle un po' ecco no morire ok ok qua è da primo però abbiamo scaldare dei riconosciuti nelle curve lunghe nei mostri stilati qua eh ho saputo da raccordare una sull'altra tiriamo un pelo per il rettilineo ok lanciamoci per il primo giro di qualifica valido eh ahia attenzione come frede come frede ci siamo ancora bisogna aspettare ancora un giro risparare il timpone bisogna aspettare ancora un giro va ancora perfettamente eh vedo la professione scappa qua comunque il prossimo giro lo tene buono per fare la clinica potete la raccordare ahia attenzione come togliere il ruolo qua riesce piano ok lanciamoci ecco qui va bene non mi chiedo di ottenere di più eh siamo un po' in crisi in mezzo ok ci siamo eh attenzione all'errore Ok, abbiamo un'esplosione per il corso di corso di corso. Nei che rispettare i corso di corso di corso, guardateci la corso di corso. Ora, ora, facciamo un'esplosione. Ora, ora facciamo un'esplosione. Ora, vediamo, è un'esplosione. Ok, è pronto. siamo perfetti, abbiamo fatto più errore là, niente, facciamone un altro forse lo meglio, eh no, abbiamo ancora un po' di problemi con la cuba, non l'ha staccata, se non ci dice troppo, eh vabbè, pazienza, vieni, bisogna ricominciare una sporca sicura qui, oh, scusa, sono carico ok, lanciamo giù zero marcia ma ci entriamo veramente fortissimi ok non ho poco sopra il tempo, eh sì, bello già qui, eh stiamo esagerando un po' correnti qua, eh bene, passiamo ok, vediamo cosa segniamo stiamo segnando qualcosa di importante probabilmente primi un attimo qua vediamo un po' come sono messi gli altri eh, un secondo, però siamo quasi alla fine io direi che andiamo alla fine della sessione, vediamo un po' se abbiamo mantenuto la prima posizione sì, buono dai ragazzi, gara, gara, pronti ok ragazzi, gara mi raccomando, eh, pompatissimi un'ottima partenza ottima partenza ottima partenza ti ricordo che ho aumentato la la difficoltà a 70, eh vediamo se in caso bastasse se non la aumentiamo ancora un po' va benissimo, ragazzi è un lavoro veramente ottimo perfetto perfetto oh, ho sbagliato, sbagliato manca miseria ti sono distratto un secondo e finirà a morire, eh tutti 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 attenzione, l'errore da ultimo giro no, no, no l'errore da ultimo giro no corto cane attimo di sudore estremo ok, non è che ci siamo quasi, eh attenzione all'errore balanziamo tutto ah io alla grande uuuu ottimo dai va bene, benissimo primi 15 punti abbiamo preso i 5 punti in più per la qualifica ottimo veramente, eh vediamo un po', continuiamo con gara 2 ok ragazzi, gara 2 qua a partenza sprint guarda il lavoro ok, via provo di tirare il largo subito immagina qualcuno fuori ottimo ho già bruciato un pelo ecco la curva lì attenzione all'errore di marcia attenzione all'errore di marcia ha spiegato il pulito guarda veramente è sottissimo il lavoro di marcia lì terza seconda ok ok partiamo con l'ultimo giro guarda senti a quel cuore dell'olito che è infarto una volta con lo figlio che è fatto appucciare la grande, la grande gara 2 eh guarda 2 è veramente alla grande bella così, fortissimo ragazzi è stata veramente un'impresa stavolta attenzione attenzione l'errore dall'ultimo giro solo il terrore dall'ultimo giro l'emozione dell'ultimo giro all'ultimo giro alla grande alla grande ragazzi tempone anche eh tra l'altro è veramente alla morte bene bene sono contento continuiamo siamo primi in campionato ovviamente questo qua per tempo ha vinto l'attaccia sua ok quindi questa qua è il primo round del del campionato superkart ce ne sarà ovviamente altri 5 mi sembra se non sbaglio e verifichiamo poi congratulazione nuova email bene sei una figura di spicco eh WMD Euro Track Day bene quindi ci aspetterà un nuovo campionato all'interno del nostro calendario completo siamo ancora ad agosto e andremo al secondo evento la seconda gara del campionato di superkart niente ragazzi quindi io vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo di lasciarmi un like se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto commentate condividete e fatemi quello che volete noi ci vediamo nel prossimo video ciao belli ciao 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 ciao